Rieccoci allora, Euroderby, Cuomo ormai ci avviciniamo, le ultime su Leao perché tutti vogliono sapere, gioca o non gioca? Per me non gioca, stamattina terapia e palestra, non ha indossato minimamente gli scarpini e non ha visto campo neanche di sfuggita e quindi mi sembra alquanto improbabile che lui domani possa essere della rifinitura e che mercoledì possa essere della partita tra l'altro bisogna tenere conto di due cose, la prima cosa è che comunque elongazione è lesione di diverse fibre, di poche fibre è una lesione minima ma sempre di lesione si tratta, seconda cosa rischiare oggi vuol dire peggiorare, peggiorare vuol dire lesionare davvero lesionare davvero vuol dire stagione finita, che se senza Leao vai a Istanbul, Istanbul è tra un mese e lesione muscolare agli adduttori, ma comunque c'è quarto posto, abbiamo imparato, esatto, abbiamo imparato il Milan è provare a averlo per la gara di ritorno, ma qui una domanda psicologica faccio a Michael che a Edo delle gesta rossonere segue da vicino tutto quello che accade a Milanello, psicologicamente facendo un po' quello che sta facendo Mourinho che continua a portare in panchina di bala anche se di fatto non può giocare, lo porteresti in panchina? Comunque sai, dall'altra parte non lo sanno, vedere la distinta, c'è Leao comunque anche nel pubblico, crei magari un effetto per cui comunque psicologicamente o lasci direttamente fuori? Mourinho lo sta facendo con di bala? E non voglio rispondere al posto di Michael, perché non voglio rispondere, ma in generale dico questa pretattica, quando noi che lo diciamo facciamo quelli che lo sanno, cioè e quelli dell'Inter in questo caso quindi non lo sanno, io questa cosa mi manda sempre io capisco, non è senso, ma se tanto lo dici sapendo che poi non gioca, secondo te per vederlo lì, allenatore, staff tecnico, tutti quelli dell'Inter non lo sanno cioè mi avete detto che Ibrahimovic non serve a niente a bordo campo e adesso serve Leao io non ho mai detto questa cosa di Ibrahimovic no, ma infatti io dico che effettivamente sarà come dici tu, è che non riesco a farmelo entrare in test, cioè mi manca un passaggio Mourinho ci dice che Di Bala ha una gamba sola, io se lo vedo in panchina ma so che ha una gamba sola dico chi se ne frega di Elio mi racconto questo retroscena e tanto so di non raccontare nulla di male attenzione il giorno di Milan-Napoli, l'andata della Champions League ho fatto la trasmissione con Suma e Biasin e sempre derby, mercoledì era mercoledì il Milan era mercoledì il Milan sì, era andato Mazzano poi di Benassaro, era mercoledì anche 12 e Suma, sapete che quella mattina si diceva ma no, Osimè non era già andato via e quindi Osimè non era Milano non era Milano, il giorno prima e avevamo detto a Mauro beh però alla fine Osimè in questa notizia sai ma a Milanello come l'hanno presa perché poi alla fine ti trovi che e Suma mi dici secondo te a Milanello non lo sanno già da tra quattro giorni che Osimè non gioca cioè e quindi a Milano all'Inter gli interisti da piano gentile secondo me sanno già che Leao non gioca se non gioca magari gioca ma poi i giocatori si parlano allora cosa state facendo? ma Leao? ragazzi siamo senza Leao cioè vuoi che non si dica? certo ma poi scusa tra di loro un'elongazione all'adduttore non stanno cosa significhi non vanno in campo esatto no ma io io solo questo io solo questa cosa questa cosa ieri mi ha mi ha un po' cioè l'ho presa ad esempio Messi nel 2019 si procura il 24 settembre un'elongazione agli adduttori stessa diagnosi di Leao salta una partita col Getafe e a distanza di otto giorni otto giorni dopo no gioca e non ha ricadute però gioca contro l'Inter sì sì ma per il ritorno quest'anno Miranciuk ha avuto lo stesso problema però sono sono discorsi dipende poi anche dal fisico del giocatore esatto così si ha anche perché ogni parola scientifica non è che è un certo cioè poi c'è chi rientra prima sono giocatori diversi hanno un modo di giocare diverso avranno anche un tono muscolare diverso detto questo la defezione rimane anche con la presenza eventuale del ritorno perché perché al Milan non solo serve Leao in forma serve il miglior Leao al Milan sarà per alzare il livello della squadra in generale sarà questa la formazione quindi Salemakers a sinistra e tutto il resto confermato sì non vedo non vedo alternative oggi qualcuno nella nostra diretta sui social proponeva Teo Hernandez dove tu vedi Salemakers Florenzi o meglio Calulu a destra e Calabria a sinistra la mia risposta è questa ma perché ma perché perché loro perché il tifoso del Milan vedono Teo più forte no vedono Calulu il sostituto sarebbe l'uomo in più sarebbe Calulu quindi dicono tra Calulu e Salemakers meglio mettere dentro Calulu mia risposta ma scusami perché spostare Teo dalla cioè Teo funziona lì perché lo devi mettere magari marcato quando invece la sua forza è partire dalla distanza giungersi al centrocampo da interno ragazzi sono d'accordo con voi io vi sto dicendo i tifosi oggi dicono sono d'accordo sono d'accordo e infatti sto rispondendo ma poi tu qua cambi poi andresti a rivoluzionare troppo esatto fuori le au dentro Salemakers è vero che non te ne gioca uno ma tu lo sostituisci con un altro che tra l'altro Salemakers oh non dà mai garanzie piace sempre a pochi nelle ultime partite secondo me è uno di quelli più in forma del Milan non è le au ma nessuno le au l'unica provocazione potrebbe essere per come l'ha messo Pioli nelle ultime partite abituato a giocare delle semifinali di Champions le ha già decise anche se quest'anno ha fatto molto male è mettere Orighi altrimenti devi mettere Salemakers non hai altri giocatori quella è un'altra ipotesi l'ha provato con la Cremonese largo sinistra però doveva dare risposte con la Cremonese infatti ho detto ha fatto malissimo però è uno che è una semifinale di Champions con il Barcellona 4-0 e poi l'ipotesi a parte che la escludiamo a priori ma poi tu non devi rivoluzionare lì cambieresti il terzino destro cambieresti il terzino sinistro cambieresti l'esterno la Tanasia così ne cambi uno che è il più importante della squadra perché senza le au con Milan-Napoli in Milan-Napoli questa è la formazione più logica parleremmo di Napoli-Inter e non di Milan-Napoli e quindi Caroni Dias ultimamente non brillantissimo Dias Dias non brillantissimo metti Messias? no può essere un dubbio l'ultima partita ha fatto un po' meglio no secondo me questo è il Milan allora abbiamo capito che il Milan contro il Napoli è il Milan tipo ti manca le au metti Salemakers Caroni però Milan che già penso no di interpretare un po' anche il vostro pensiero l'Inter sembra star meglio nell'ultimo periodo sembra in generale più forte senza le au Matteo fa più fatica al Milan guarda io la davo favorita all'Inter anche prima dell'infortunio di le au adesso la vedo tanto favorita cioè 70-30 ecco per dirti una percentuale perché non so mi sembra il tipo di gara in cui l'Inter veramente fa fatica a sbagliare e non vedo senza le au come il Milan possa creare dei problemi all'Inter cioè non riesco a farmi un'idea di che mossa o che giocatore possa essere pericoloso oggi per l'Inter l'unico era le au e quindi non so forse del Milan come dire spererei magari di pareggiare l'andata giocarmela a ritorno sperando di avere le au l'unica è quella anche lì però è come quando è tornato lo si men un contadine ce l'ho un contadine ovvero le au è quello che ho detto prima anche il ritorno che ci sarà sarà un le au al 60% quello che ho detto quello che ho detto io ma poi sarà inevitabilmente un le au anche che ci può stare possa limitare i suoi movimenti le sue accelerate per le sue accelerazioni per evitare che la zona possa avere un luogo no in una gara del genere senza domani secondo me no Michael cioè fossimo a ottobre ti direi di sì ma al ritorno se la qualificazione è ancora in bilico tu ti giochi tutto anche a costo di star parti certo però ti giochi tutto certo ma guarda che inconsciamente tu tiri il freno a mano se senti che se hai il minimo sentore che qua se qua senti un pizzicorio e allora non giochi però ma se al primo scatto lo senti non stringi i denti no se senti ancora pizzicare non giochi Michael non giochi io dico non senti pizzicare poi fai un'accelerazione e ti viene il pizzicchio cosa fai? ti fermi perché se giochi praticamente ti sei già rotto un'altra volta no comunque comunque credo che credo che che poi alla vigilia alla vigilia veramente vale tutto però sono stra d'accordo io vedo in bassa frequenza adesso ancora le immagini che hanno portato il Milan a giocarsi questo Euro Derby ragazzi cioè gli highlights del Milan sono le azioni di Leao voglio sentire anche Claudio passiamo anche all'Inter con la formazione probabile torniamo subito tra poco rieccoci volevo sentire Claudio sia su Leao che sull'Inter sinceramente sulle proporzioni un po' larga 70-30 credo come tipo di anche per me mi sembra un po' troppo larga quella data da Caroni la ridurrei diciamo un 60-40 se vogliamo vista appunto l'assenza di Leao forse per Matteo era già così prima di Leao senza Leao ovviamente il Milan per dettagli ti avrei detto un 60-40 prima io però l'Inter è una squadra che in questa stagione ha avuto anche sì ma nell'ultimo periodo e nelle partite diciamo decisive ha risposto a risposto adesso l'Inter fisicamente sta molto bene ha trovato una compattezza che prima non aveva nell'ultimo mese soprattutto ha ritrovato i gol degli attaccanti perché Lautaro adesso è tornato a segnare cinque gol le ultime quattro partite Diego comunque a Verona ha fatto due gol quindi si è sbloccato dopo il digiuno di quasi quattro mesi Lukaku non è Lukaku di inizio stagione e quindi secondo me la differenza può essere sul fatto che il Milan è più squadra è più compatto però l'Inter ha più singoli ha più individualità soprattutto in panchina ha più giocatori che possono subentrare e cambiare la gara perché se tu vetti dentro Mkhitaryan però i discorsi analoghi sono stati fatti anche prima di Napoli Milan ma Napoli Milan in realtà quando avevamo parlato qui c'era anche Stefano si ricorda secondo me Napoli non era il Napoli inizio stagione cioè Napoli comunque anche ultime settimane lo stiamo vedendo non è il Napoli che fino a febbraio era quasi ingiocabile e quindi Milan non poteva metterlo in difficoltà mancava Osiman e comunque insomma con tutto il rispetto per chi ha giocato il suo posto si è vista la mancanza di Osiman a ritorno è vero che non era al 100% però chi fa gol nel Napoli alla fine ha fatto gol lui al netto di tutto sì non era al 100% però comunque il golletto l'ha fatto le responsabilità averlo in campo una cosa non averlo un'altra le responsabilità di quel Napoli sono anche di Spalletti che ha tirato troppo la corda sulla condizione dei suoi giocatori sì ha fatto poco turnove ha scelto di non marcare Leao con le marcature preventive quindi ha pagato d'azione detto questo il calcio è anche episodi e soprattutto episodi segna Kvarazkelia dopo 20 secondi voglio vedere lo so però nella tua frase c'è anche la partita in arrivo no? cioè il calcio soprattutto episodi infatti io prima ho detto di Matteo Caroni ho detto 70-30 non me lo parlo esagerare guardate che guardate che un giocatore importante Matteo se lo ricorderà a Manchester la finale del 2003 la Juve con Nedved era una cosa e senza Nedved è stata purtroppo per la Juve è stata un'altra cosa assolutamente io però vi metto sul piatto ovviamente filosofia non è concretezza come possono essere come sono le qualità di Leao ragazzi ma quando la pettorina è quella della Champions a Milanello quest'anno l'interruttore è scattato cioè scatta in e quindi io mi aspetto comunque un Milan senza Leao quindi limitato ma che può dire la sua ma certamente e l'anno scorso noi limitiamoci questo allenatore comunque mi sembra che abbia già stupito tante volte perché si continuava a dire adesso vedrai che tornerà il rendimento del Milan adesso vedrai che è impossibile che vinca ancora tutte le partite e poi e poi l'infortunio di Leao attenzione che adesso Cuomo dice meglio così no 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 però sull'aspetto psicologico responsabilizza e poi sull'aspetto psicologico di chi sta davanti l'inter c'è il rischio che dica ragazzi senza Leao la pericolosità del Milan si è abbassata notevolmente sottovaluta l'anno scorso l'inter fa 70 minuti di un derby che dice io in infradito oggi pomeriggio il Milan lo batto era avanti 1-0 Giroud fa doppietta 2-1 l'inter perde il campionato si si certo poi può succedere di tutto i numeri però ci dicono questo senza Leao il Milan fa una vittoria 4 pareggi e 5 sconfitte e un'altra vittoria 10 gol fatti e 14 subito com'è? è un'altra vittoria contro la Lazio perché Milan-Lazio è un'altra vittoria però onestamente non cambia molto non cambia molto è il miglior giocatore del Milan quando tu hai il tuo miglior giocatore non ce l'hai purtroppo qualcosa perdono infatti un grande tema è il famoso discorso sulla rosa allargata e sulle disponibilità della panchina tu sai che c'è stata l'Inter sicuramente c'è stata questa tendenza da parte degli interisti improvvisamente a dirci che che Lukaku valeva Orighi e che Correa è il peggior decetelare visto sulla faccia della Serie A ma su una cosa posto che per me la rosa dell'Inter è molto più attrezzata di quella del Milan su una cosa sono d'accordo che i picchi che raggiunge il Milan con due individualità su tutti Teo e Leao no Mignane e Leao l'Inter non li raggiunge con nessuno e togliendo la montagna più alta la vetta più alta il picco più alto e tu inevitabilmente perdi cioè chi è oggi il giocatore più di Leao in Serie A che riesce a determinare i risultati della sua squadra per me nessuno infatti per questo che il Milan perde tanto perché purtroppo cioè nell'Inter non c'è un giocatore che dicono in presa ma per me no eh quest'anno lo è stato forse acclusimento per me neanche loro a quei livelli perché banalmente il Napoli il Napoli a Raspadori e Simeone che al Milan averceli Raspadori e Simeone banalmente anche Elgas non stai facendo un complimento a Pioli e al Milan non sto facendo no non sto facendo un complimento c'è solo Leao palla Leao è un dato di fatto però in panchina ti manca Leao oggettivamente i sostituti quest'anno Rebic Orighi Lechettelare stanno floppando la stagione l'Inter può mettere dentro comunque delle alternative più importanti lo stesso Napoli Raspadori e Simeone hanno dato un contributo più significativo infatti io voglio dare una carezza a Stefano Pioli che essere per me è ingiustificabile avere lo scudetto e un divario così ampio con la prima della classe e averlo perso dopo dopo metà stagione quello è ingiustificabile però il povero Pioli vince lo scudetto e a settembre parte con una squadra più debole e questa la colpa non è sua voglio fare una domanda Michael di quelle che piacerebbero a Stefano Donati se Pioli se Pioli finisce quinto ed esce con l'Inter merita la conferma o no? bella domanda per me per me si può come bella domanda per me si deve discutere del suo futuro bella domanda scusa un allenatore che ha preso in Milan che non era competitivo ha vinto uno scudetto e è arrivato in semifinale di Champions deve essere messo in discussione Claudio ma hai presente il peso di non giocare la Champions l'anno prossimo? però due minuti fa mi hai detto che il Milan è leao e quindi vuol dire che se lui ha vinto un campionato come quello per ora però ha anche detto che è ingiustificabile un divario così no questo sì io credo che però è più strano il Milan quinto o il Milan primo? beh adesso è più strano il Milan quinto stiamo parlando di quinto non stiamo parlando di terzo che dici non è stata una grande annata comunque se era di quinto è un disastro anche economico però abbiamo chiesto la casa madre finale di Champions League è persa e è quinto posto si equiparano i guadagni i ricavi no è una perdita è stato più un'impresa vincere il campionato o un flop arrivare quinti non sapevo che Pioli fosse l'amministratore delegato per me è stato più un flop arrivare quinto io vedendo la cosa non sono così sicuro no è stato più un flop arrivare quinto dopo un campionato vinto però per far posto a chi poi infatti quello che duro di Pioli non è in discussione secondo me anche se la tua domanda è perfetta proprio perché ha vinto lo scudetto l'anno prossimo si riparte da zero cioè il buono scudetto te lo sei giocato se resti fuori dalla Champions League se l'anno prossimo il Milan dovesse floppare ancora la stagione è chiaro che Pioli non riuscirebbe a restare sulla pancina dimentichiamoci Stefano esci con l'Inter e arrivi quinto dimentichiamoci ma hai vinto lo scudetto l'anno scorso non cambi quindi tu pensi di arrivare con il cambio questo vale anche per Inzaghi in questo caso Inzaghi non ha vinto lo scudetto la semifinale di Champions però è un'arma a doppio taglio perché se tu esci con il Manchester City ora il Madrid è semifinale di Champions e questo lo sappiamo se tu esci nel derby lo sa bene Claudio ma la differenza infatti al di là dell'attuale posizione dell'Inter che è più avanti rispetto al Milan in campionato non è che la decisione che è stata presa deve essere giusta io vi ho fatto una domanda per una volta mi sono sostituito con Stefanone come conduttore ho fatto una domanda se arriva ma questo vale anche per Inzaghi se non arriva in Champions però è diverso perché Inzaghi non ha vinto lo scudetto e la domanda la faccio anch'io Dzeko o Lukaku gioca a Dzeko secondo me perché ha fatto riposare 90 minuti a Roma però sono quelle partite dove questo è un dubbio che secondo me si porta dietro anche perché lo stesso Inzaghi nel post partita dice uno fa dei programmi e poi magari all'ultimo cambia idea ma dai domani fanno la partita dell'allenamento uno fa 4-2 hai capito hai capito Matteo Matteo la rosa scarsa poverini devono scegliere tra due parametri zero Cialanoglu e Mkhitaryan poverini non andava male l'Inter che io diventavo matto a sentirmi dire l'Inter andavamo matti però scusami Matteo però Cialanoglu vabbè tanto è un giocatore signor nessuno e viene lasciato andare a parametro zero Mkhitaryan è consunto dagli anni e la Roma lo lascia andare chi l'ha detto Gekko ormai fa mezza stagione e dopo non erano certo le eccellenze del mercato no? ma chi è che gli ha detto queste robe scusa? scusami quando arrivano non è che vengono celebrati come degli acquisti top ti ricordi tu che sei un grande fan di De Braille ti ricordi quando è arrivato a Cervi a zero cosa ci ho detto? che nessuno all'interno voleva e ti ho detto tu De Braille perde il posto con la Cervi è vero sì 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 bastava bastava vedere le partite esatto il giocatore che ha al Sassuolo la Lazio ha sempre giocato la Cervi l'abbiamo parlato tante volte è stata scorsa il problema è che i tifosi si erano creati un po' la fantasia di Lazio-Milan che rideva i tifosi vabbè comunque il povero Inzaghi con questa rosa piena zeppa di parametri zero poverino Simone ti siamo tutti vicino mi raccomando scegli bene non hai preso Mkhitaryan al posto di De Chetelare allora quanto prende Mkhitaryan e quanto prende De Chetelare quanti anni ha Mkhitaryan prende 4-2 retti più premi De Chetelare prende 2-2 con 35 milioni lo pagherai lo stipendio di Mkhitaryan amico mio amico mio amico mio ma non lo vendi lui lo voglia invece De Chetelare sì ma come fai a pianificare un futuro virtuoso allora sono scelte però certo beh basta che non mi dite però che Mkhitaryan è per questo che Pioli non può essere mandato via dopo aver vinto lo scudetto sì ma tu sai che nella società ci sono gli ingranaggi che non sempre vanno a porto dobbiamo fermarci solo un attimo ma si continua su Topcaccio24 grazie a Caroni ciao Matteo Cuomo Garioni vi ritrovate tra poco buon proseguimento